Quattro mezzi furgonati coinvolti di cui uno ribaltato, due persone trasportate d'urgenza in ospedale, una delle quale è stata incastrata per due ore tra le lamiere. La statale 379 è chiusa per quattro ore e il bilancio di un pericoloso incidente verificatosi questa mattina intorno alle 6 sulla Brindisi Bari all'altezza dello svincolo per Pantana Gianni. Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente, ora al vaglio della polizia stradale. Da una prima ricostruzione pare che un mezzo pesante che viaggiava in direzione Bari abbia sbandato fino a perdere il controllo invadendo la corsia opposta. Nel frattempo un furgone che sopraggiungeva sulla corsia ha impattato con il mezzo pesante venendo a sua volta colpito da un terzo furgone che si è ribaltato, coinvolto in maniera marginale anche un quarto mezzo. Sul posto avvisati dai conducenti delle auto di passaggio che hanno notato ciò che era accaduto, i sanitari del 118, una pattuglia della polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno appunto lavorato per due ore su uno dei furgoni all'interno del quale l'autista era rimasto intrappolato. Due dei conducenti sono stati trasportati all'ospedale Berlino di Brindisi dove fortunatamente sono giunti non in pericolo di vita. Grazie a tutti.